Un contadino sta ammirando il proprio allevamento di galline all'aria aperta. Ad un certo punto si avvicina un tipo distinto e gli chiede, belli i suoi polli, cosa mangiano? Ah guardi, gli do solo roba di prima qualità, costosissima, dice orgoglioso il contadino. Ma come, non si vergogna? Io sono un commissario della FAO, incaricato di multare chi spreca cibo. Io adesso le farò pagare mille euro di multa. Qualche giorno dopo l'allevatore viene avvicinato nuovamente da una persona. Belli i suoi polli, cosa mangiano? L'allevatore, ricordandosi del tizio di qualche giorno prima, gli fa. Ah, roba da poco, scadente, discarto. Ma come, non si vergogna? Io sono della protezione animali e presto le farò arrivare mille euro di multa. Dopo una settimana l'allevatore, ricevute le due multe, viene nuovamente avvicinato da un ammiratore dell'allevamento. Che belli i suoi polli, che cosa mangiano? Ah guardi, io faccio così, gli do dieci euro a testa e si comprano quello che vogliono.